volete fare la cosa più figa dell'estate? la pasta di pomodoro fatta in casa con tutta la famiglia guardate il picciolo del pomodoro, svolete i miei pomodori per due minuti fai i pomodori a metà, Mario vai, vai Mario vai una città, una città, guarda che bello metti la sua fana ce ne fatti? certo amore una bella foglia di basilico sale questa è una delle tradizioni più belle italiane che ci abbiamo non deve andare persa, continuate a farlo è pazzesco, riunisce vi fate due risate, faticate insieme è importantissimo lasciare almeno un dito di spazio incartate, mettete il barattolo a sterilizzare e fate bollire per almeno 30-45 minuti e fate la fredda là dentro e poi st'inverno ha voglia a mangiare la pasta fatta da voi